Era il 1997 quando Openjob assumeva la sua prima lavoratrice, una signora che fu mandata a lavorare in un'azienda di dinamo. Peccato che avesse le mani troppo grosse e fosse allergica all'olio. Da questa piccola esperienza iniziale, ora Openjob Metis, conta 12.500 dipendenti diretti e ogni giorno lavorano per questa società oltre 530.000 lavoratori in somministrazione. Domani si festeggia l'anniversario dei sette anni da quando la società di Gallarate è stata quotata in borsa. Per celebrare questo traguardo oggi in azienda Gallarate ha fatto visita il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. L'amministratore delegato Rosario Rasizza e il presidente Marco Vittorelli hanno accolto Attilio Fontana in azienda, facendogli visitare diversi reparti. Un incontro piacevole all'insegna dell'informalità. Il presidente Fontana è poi andato salutando tutti i dipendenti, l'amministratore delegato, il presidente che si sono trovati davanti al palazzo per augurare buon lavoro a tutti quanti.